La democrazia. Dopo anni di riflessione sulle molteplici possibilità che ha uno Stato di organizzarsi, ho capito che la democrazia è il sistema più democratico che ci sia. Dunque, c'è la dittatura, la democrazia è... basta. Solo due. Credevo di più. La dittatura chi l'ha vista sa cos'è. Gli altri si devono accontentare di aver visto solo la democrazia. Io, da quando mi ricordo, sono sempre stato democratico, non per scelta, per nascita. Come uno che appena nasce è cattolico, apostolico romano. Cattolico pazienza. Apostolico non so cosa sia, ma anche romano. Vabbè, del resto come si fa oggi a non essere democratici? Sul vocabolario c'è scritto che la parola democrazia deriva dal greco e significa potere al popolo. L'espressione è poetica e suggestiva. Sì, ma in che senso potere al popolo? Come si fa? Questo sul vocabolario non c'è scritto. Però si sa che dal 45, dopo il famoso ventennio, il popolo italiano ha acquistato finalmente il diritto di voto. È nata così la democrazia rappresentativa, nella quale tu deleghi un partito, che sceglie una coalizione, che sceglie un candidato, che tu non sai chi sia e che tu deleghi a rappresentarti per cinque anni. E che se lo incontri ti dice, lei non sa chi sono io. Questo è il potere del popolo. Ma non è solo questo. Ci sono delle forme ancora più partecipative. Per esempio il referendum è addirittura una pratica di democrazia diretta. Non tanto pratica, attraverso la quale tutti possono esprimere il loro parere su tutto. Solo che se mia nonna deve decidere sulla variante di valico, Barberino Roccon Bilaccio, ha qualche difficoltà. Anche perché è di Venezia. Per fortuna deve dire un sì se vuole dire un no e un no se vuol dire sì. In ogni caso ha il 50% di probabilità di azzecarla. Comunque il referendum ha più che altro un valore folcloristico, perché dopo aver discusso a lungo sul significato politico dei risultati, tutto resta come prima. Un altro grande vantaggio che la democrazia offre a mia nonna, cioè al popolo, è la libertà di stampa. Nei regimi totalitari, per esempio, durante il fascismo, si chiamava propaganda e tu non potevi mai sapere la verità. Da noi si chiama informazione, che per maggior chiarezza ha anche il pregio di essere prularillista. Sappiamo tutto. Sappiamo tutto, ma anche il contrario di tutto. Pensa che bello. Sappiamo che l'Italia va benissimo, ma che va anche malissimo. Sappiamo che l'inflazione è al 3 o al 4 o al 6 o anche al 10%. Che abbondanza! sappiamo che i disoccupati sono il 12% e che aumentano o diminuiscono a piacere, a seconda di chi lo dice. Sappiamo dati, numeri, statistiche. Alla fine, se io voglio sapere quanti italiani ci sono in Italia, che faccio? Vado sulla variante di Valico, Barberino-Ronco-Bilaccio e li conto. Zzzz, chi va a sud. Zzzz, chi va a nord. Altro che Istad. Comunque è innegabile che fra un regime totalitario e uno democratico c'è una differenza abissale. Per esempio, durante il fascismo non ti potevi permettere di essere antifascista. In democrazia invece si può far tutto, tranne che essere antidemocratici. Durante il fascismo c'era un partito solo al potere. O quello o niente. In democrazia invece i partiti al potere sono numerosi e in crescita. Alle ultime elezioni, fra partiti, liste autonome, liste di area, gruppi misti, eccetera, ce ne sono stati 248. Più libertà di così si muore. Del resto, una delle caratteristiche della democrazia è che si basa esclusivamente sui numeri. Come il gioco del lotto, anche se è meno casuale, ma più redditizio. Più largo è il consenso del popolo, più la democrazia o chi per lei ci guadagna. Quello del popolo è sempre stato un problema per chi governa. Se ti dà il suo consenso vuol dire che ha capito, che è consciente, consapevole e anche intelligente. Se no è scemo. Comunque l'importante è coinvolgere più gente possibile. Intendiamoci, la democrazia non è nemica della qualità. È la qualità che è nemica della democrazia. Mettiamo come paradosso che un politico sia un uomo di qualità. Mettiamo anche che si voglia mantenere a livelli alti. Quanti lo potranno apprezzare? Pochi. Pochi ma buoni. No. In democrazia ci vogliono i numeri. E che numeri? Bisogna allargare il consenso. Bisogna scendere alla portata di tutti. Bisogna adeguarsi. È un'adeguatina oggi, un'adeguatina domani e l'uomo di qualità poco a poco ci prende gusto. E... tac! Un'altra abbassatina. Poi ce n'è un altro che si abbassa di più. E allora anche lui, tac! Tac! Ogni giorno si abbassa di 5 centimetri. E così, quando saremmo tutti scemi allo stesso modo, la democrazia sarà perfetta. Bene, con questa mia riflessione, San Tenchan vi saluta e vi invito ad un prossimo ascolto. Arrivederci e grazie.